La Polizia di Stato di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, contro 30 indagati per associazione a delinquere, traffico di droga, porto e detenzione di armi, lesioni aggravate, estorsione, spaccio di stupefacenti e accesso in debito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. La misura è stata emessa dopo le indagini condotte dalla squadra mobile della Polizia, con il supporto dei commissariati di Secondigliano, Poggio Reale, Avellino e Anzio, in seguito al ferimento di un uomo il 20 settembre 2021, in risposta a un altro agguato il del 2 settembre 2021. L'attività investigativa ha evidenziato un clima di tensione all'interno del gruppo della Stadera, parte del clan Contini, con la volontà di uno degli indagati di creare un gruppo autonomo, approvvigionandosi di droga da scampie Poggio Reale. Il gruppo criminale vendeva droga tra Casoria e Napoli e riforniva piazze di spaccio a Ponticelli, Secondigliano, Avellino e la casa circondariale di Salerno. In caso di debiti non onorati, attuava estorsioni. Il gruppo disponeva di armi e intendeva acquisirne di più per eventuali scontri armati. Durante l'indagine sono emersi elementi contro altri due soggetti per un ferimento del 17 dicembre 2019, nell'ambito del conflitto tra i gruppi della Stadera e del Rione Bronx. Per 13 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per altri 17 il divieto di dimora in campagna.